Saranno vaccinati oggi in tre province abruzzesi gli over da oggi, gli over 80 anni, diversamente abili e categorie più fragili. Cominciamo questa pagina dedicata all'emergenza Covid, in particolare cominciando proprio dalle vaccinazioni anti SARS-CoV-2. Cominciamo dalla provincia di Chieti, dal territorio della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, dove la campagna parte ed interessa proprio le tre città più importanti, Chieti, Lanciano e Vasto. Ma dal primo marzo l'obiettivo è quello di immunizzare circa 1000 ultraottantenni al giorno. Vediamo perché sta per iniziare la vaccinazione nel pomeriggio, vediamo la situazione, ci colleghiamo con Fabio Lussoso. Buon pomeriggio Fabio, dunque a te la linea. Sì Gigliola, buongiorno, esattamente come dicevi tu parte oggi la campagna di vaccinazione per gli over 80, per gli anziani che hanno manifestato la volontà vaccinarsi nelle ASL di Chieti, Lanciano e presso la direzione medica dell'ospedale di Vasto. Gli anziani della provincia di Chieti che hanno manifestato interesse per la vaccinazione sulla piattaforma regionale sono 14.243, pari al 44,7% del totale censito in 31.841. È necessaria per potersi vaccinare la tessera sanitaria e il foglio di anamnesi compilato e ricevuto con la lettera di convocazione. Tutto è pronto per accogliere questi primi 200 anziani che hanno manifestato la volontà a vaccinarsi, così come ha sottolineato il dottor Di Paolo che abbiamo ascoltato. I vaccini attualmente che verranno utilizzati sono la Pfizer e Moderna per gli ultraottantenni e l'Astra per i 18-55. Ricordiamo in tutta la provincia di Chieti sono oltre 31.000, gli anziani sopra gli 80 anni. Qui a Chieti c'è stata una buona partecipazione e soprattutto si sono iscritti in un numero consistente sulla piattaforma della regione Abruzzo. È tutto pronto e predisposto per accoglierli? È tutto pronto per partire, la risposta è stata ampia degli anziani, moltissime adesioni per cui si può partire in sicurezza. Siamo in compagnia del direttore sanitario dell'Asla numero 2, il dottor Angelo Muragli. È partita, parte oggi alle 14.30 questa campagna di vaccinazione per gli over 80, è stato predisposto tutto. L'assessore regionale Nicoletta Verì, dottor Muragli, ha ricordato proprio questa mattina in un comunicato che la campagna vaccinale su tutta la regione sta procedendo secondo i standard imposti. Sì, parte alle 14.30 su tutti e tre nostri presidi di Chieti, Lanciano e Vasto. Si parte su Chieti e su Lanciano presso gli ambulatori dello IESP, mentre su Vasto abbiamo deciso di partire sulla postazione ospedaliera presso la direzione medica dell'ospedale, perché avevamo già lì iniziato a fare i vaccini, in quanto l'ambulatorio IESP era occupato per quanto riguarda le altre vaccinazioni obbligatorie. Dottor Muragli, c'è stata una buona partecipazione da parte della cittadinanza, si sono regolarmente iscritti sulla piattaforma della regione Abruzzo, ma già dal mese di marzo voi contate di avere un numero davvero significativo di vaccinazioni? Sì, sono state contattate naturalmente tutte le persone che avevano avuto accesso alla piattaforma regionale, si erano prenotate quindi per la vaccinazione Covid, e quindi sono state contattate attraverso il nostro sistema di chiamata telefonica, attraverso il CUP, gli operatori del CUP. Siamo pronti dal primo marzo ad allestire, anzi abbiamo già allestito altre postazioni che ci permetteranno di avere una capacità vaccinale anche più di mille vaccini al giorno, naturalmente vaccini permettendo. Proprio su questo aspetto è importante ricordare come le ASLE si siano già, come dire, attivate e predisposte per poter effettuare anche il richiamo fondamentale. Certamente, con la prima dose saranno dati anche gli appuntamenti per le seconde dosi e bisogna anche conservare naturalmente le seconde dosi. Dottor Molaglia, per concludere, questa operazione è fondamentale per contenere la pandemia? È fondamentale sì, bisogna vaccinare quanta più gente possibile e speriamo appunto che tutte le forniture vaccinali promesse, e secondo i piani settimanali che ci arrivano praticamente dal commissario, siano poi effettivamente recepiti da noi e per poter poi naturalmente programmare anche le vaccinazioni. La programmazione delle vaccinazioni è un problema importante perché non è una vaccinazione semplice, è una vaccinazione che ha bisogno del richiamo, chi ha bisogno di farlo in determinate settimane dopo determinati giorni dipende dal vaccino utilizzato, sia il Pfizer che il Moderna. Da Chiede è tutto, ringrazio Diego Martelli per il collegamento tecnico, la linea può ritornare allo studio.